Sicuramente c'era da riflettare un po' tutto, c'è ancora da fare parecchio in questa società e lo stiamo facendo. I ruoli sono due ruoli apicali chiaramente, perché parliamo del direttore sportivo e dell'allenatore, quindi nel calcio è così. Credo che se devo fare una considerazione su quello che è stato l'approccio, devo dire molto molto bene, perché con Matteassi sono veramente contento e credo che quella che era l'impressione che aveva fatto questo ragazzo, a me e il vicepresidente Bancolski non l'abbiamo sbagliata fino adesso. Il mister, devo presentarlo io, è un allenatore di categoria, è un allenatore che ha vinto in questa categoria, è un allenatore di esperienza, è un allenatore che ha nel suo DNA il lavoro, che è una cosa che io cercavo, perché purtroppo è difficile trovare quegli allenatori che si dedicano molto al lavoro e quindi da questo punto di vista sono assolutamente soddisfatto. Su questo aspetto dei giocatori in uscita, la vecchia guardia, tanto si è parlato, tanto si parla, le zavorre del contratto, alcuni possono far parte del progetto tecnico di Auteri, quanti usciranno di questo zoccolo duro dello scorso anno? Ma è vero che noi, parliamo di contratti perché così facciamo prima, è vero che noi abbiamo alcuni contratti pesanti per la categoria, perché l'ho detto prima e non ho problemi a ribadirlo, però noi ne abbiamo 10, ne abbiamo 4, quindi voglio dire non sarà facilissimo, ma si dovranno trovare delle situazioni, delle sistemazioni di questi contratti, se non dovessero riuscire ad andare via, anche sistemarli qui sul posto. In conferenza il Presidente ha detto che non ci sono novità sul fronte allargamento societario, però le chiedo sull'impiantistica, perché c'è la gestione dello stadio Ugetto di Febo di Silvi, c'è il poggio, ecco come gestirete questi due impianti, chi andrà ad allenarsi e a giocare lì? Io dico che se il contadino vuole tenere il terreno sistemato deve avere la zappa prima di tutto, quindi i campi sono la famosa zappa del contadino, se non ci abbiamo è difficile far fare il settore giovanile, far crescere i giovani, far allenare la prima squadra magari su terreni in erba, quindi noi il poggio degli olivi non lo lasciamo assolutamente, anzi ti ringrazio per la domanda perché ultimamente quando vado in giro sento dove andate, lasciate il poggio, non lo lasciamo anche perché noi abbiamo un contratto che sostanzialmente è un rent to buy, non è stato esercitato fino a oggi, non certamente per colpa mia ma perché il poggio non aveva una cosa a posto, quindi lo posso dire senza tema di smentito perché non c'era nulla che era a posto, si stanno finendo i lavori per sistemare tutta la parte che non era regolare, nel momento in cui termineranno noi abbiamo questa possibilità, abbiamo un contratto che scade a lungo, quindi in qualsiasi momento vogliamo esercitare possiamo esercitare, siamo nel poggio, paghiamo tranquillamente l'affitto ogni mese, l'impianto di Silvia è un ulteriore spazio che occuperemo magari facendo giocare la primavera in uno stadio vero perché comunque lo stadio di Silvia è uno stadio bello, e ci si potranno allenare a parte le squadre del posto perché noi, come ho detto all'amministrazione di Silvia, al sindaco in prima persona non andremo a Silvia per rompere le uova nel paniera a nessuno, anzi vogliamo collaborare con le due realtà che ci sono a Silvia, quindi sarà un ulteriore impianto a disposizione della Pescara Calcio. Il Pescara prima squadra si allenerà al poggio? Si allenerà al poggio ma si allenerà anche a Silvia perché questo ulteriore campo in erba servirà per poter far riposare e lavorare chi mette a posto poi il campo, in certi periodi il campo che abbiamo o a Poggia di Ulivi o a Silvia.